Ciao a tutti ragazzi, sono Gongsevidol, benvenuti in questo nuovissimo video, oggi siamo su Fortnite Battle Royale E' uscita la nuova arma e, boh, spettacolare Ho visto un po' le stats, ho visto un po' di cose della nuova arma, è veramente spettacolare Dovrebbe essere precisissima, fa 32-33 di danno, versione epica, versione leggendaria ovviamente Si può trovare a terra, si può trovare negli airdrops, si può trovare nelle casse, nelle chest normali E poi ovviamente anche nelle vending machine Come vedete ho sbloccato anche Ragnarok E, boh, bellissima questa skin, mi piace molto quella base, sinceramente Più di quella che ho io al quarto stadio A meno che ovviamente non sblocco l'ultimo livello, quella è spettacolare Comunque, sono con Fixer, l'avete notato, e non siamo in playground Questa volta Fixer mi darà la sua dose di fortuna e ho trovato un medikit Fixer, però me la devi dare prima la dose di fortuna, eh Prima la dose di fortuna, prima che io luti le chest, non dopo Perché se trovo mitragliette bianche e medikit non va bene Dovevi nomearmi prima Hai ragione anche tu, hai ragione La prossima volta lo farò prima Anzi, te la faccio aprire a te la cesta, apri tutte le ceste che ci sono, io vado a lutare tutto il resto Facciamo prima, lo sai che facciamo prima Comunque, dobbiamo riuscire a trovarla assolutamente Non è la prima partita che facciamo Hai detto che è anche in terra? Sì, anche in terra si può trovare È molto bello per questo, comunque abbiamo un paio di rift in zona Per spostarci sono molto comodi e penso che la zona sia completamente da un'altra parte Allora, sì Fantastico Ragazzi, nuovo giro, nuova corsa Indovinate, non l'abbiamo trovata nella partita precedente Ed eravamo troppo fuori zona Non aveva senso correre tutta la partita per arrivare e trovare tutto già allutato Ovviamente era un casino Quindi scendiamo a Greasy Grove adesso Io mi lancio già da ora E spero di trovarla È di nuovo sbagliato Shea, a cosa hai messo? No, quella schifosa Virus Ah, io ho messo quella con le rune, strana Boh, molto figa Ah, va bene La prossima volta la dovrei mettere Mi raccomando Comunque A quanto pare Lo stavo dicendo prima, Fixer Ci siamo tirati troppo avanti questa stella della fortuna E ormai la fortuna è andata, a quanto pare A meno che non si ribalti tutto adesso Guarda, se non la trovo La trovo alla terza cesta Allora, la terza cesta, ok Preciso Ok, io vado nella casa piccolina Intanto controllo indietro Non dovrebbe esserci Sì, c'è un team Vedo una persona Non vedo un team intero Però, immagino Gioca come se ci fosse un team intero Ok C'è una vending leggendaria A seconda di come finisce Ed è lì Ovviamente la sciocchiamo lì In casa a casa ho trovato solo pompa E una mitraglietta Ma dai, di già Eh, la gente è stupida Tengono a rubarlo Neanche iniziato a luttare Che questi stanno già prendendo i rift Allora, prima chest Provato Davvero? Leggendario Sto arrivando Fixer Eh, sì ho sentito Non è sopra di te È dietro il, come si chiama Non mi viene Ha tirato un portaforte È lì, è lì, è lì Davanti a te a sud Ah L'arma Non la gente Eh, io pensavo alla gente Ho un pompa in più se ti serve Ce l'ho Oh mio Dio che bella Oh mio Dio che bella Comunque Spacca verso l'alto E costruisci subito Eh Vieni qui dietro di me Eh Così Comunque i tipi dovrebbero essere Dietro Dietro Non vedo dove però Ah nel tetto Nel tetto Ma era a testo Va dietro anche Eh vabbè Si sono sincronizzati questi Oh Non ho cattuto uno con la granata a caso Tirandolo a caso Vado con la sinistra Gli ho messo paura Sopra, 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 sopra È sopra? Eh Li ho tolto molto Sta fuggiando Sopra Dietro Dietro 33 Dietro 33 Ma Mi manca poco Dietro 33 Eh ma Quasi di caduta Ah no Invece di caduta Lol Guarda che armi aveva Doppio fucile Vabbè iniziamo benissimo Questa arma L'hai sentito il rumore? Ma quello che hai noccato di là? Eh boh Pensi sia morto da qualche parte Sì Perché mi ha dato due kill Ok apposta Eccolo qua Non aveva nulla questo Pompa e assalto Bende ne ho dieci Scudini quattro È un sacco di granate Lenta Sì Quanto è bella Però è precisissima Precisissima È fantastica Cavolo il rumore è bello caratteristico Sì Ancora niente di Di questo genere Sinceramente L'unica arma che faceva un rumore Così che tanto caratteristico Forse era l'Ivy Shotgun Forse Dici che si riconosca proprio Sì Da lontano la senti Cioè E ti ho lasciato uno scudino Così ti fulli Tanto gli altri sei Ti ha tolto qui Due tre Sette Sette addirittura Sicuramente ti ha sparato Con il pompa Sì Esattamente Ecco Solo quello può fare Sette ridanno Ormai Lo sappiamo a memoria Con tutte le volte Che ci è successo Mamma mia O fa sette A volte fa otto A seconda della rarità Ovviamente Sei anche un bris Sei l'ho visto anch'io Mi ricordo che il record Ce l'avevi tu Che avevi fatto quattro Quattro Ecco Non ricordavo male Allora Che schifo Ovviamente è fatto Subito Sempre 140 anni Esatto Fatto con Ivy Shotgun Oltretutto Leggendario Quello rimarrà nella storia E c'è anche una desert Mi sa che è molto grande Ok ragazzi Nella prima partita Non l'abbiamo trovata Nella seconda partita L'abbiamo trovata E siamo morti subito Dopo aver lasciato Greasy Grove Quindi abbiamo deciso Di fare la terza partita La terza partita È quella decisiva Giusto? Vedete cosa salta fuori Da questa partita Allora Intanto io mi controllo indietro Non sembra che nessuno Sia da questa parte O sono fantasmi E ci ritroviamo dietro dopo O sono già lì atterrati O sono già lì atterrati Esatto Si sono lanciati A inizio del pullman E sono andato In linea retta Da qua sopra Però Ok Erano quelli dell'Osi Perfetto Va bene Va bene Io ho un Countfire E delle granate Vabbè Si vede che ho ringraziato Il bus driver Non l'ho trovata Non l'ho trovata Però un lancia Razzi epico A caso Completamente a caso Ma Questi chi sono? Niente di conosciuto No Sotto di me Colpito? Mancato Non ho più razzi Ha niente di vita Vieni Vieni Niente proprio È vicino a me Ho anche un medikit per te Se lo vuoi Ho tolto due volte 43 E poi Mi ha preso Io mi sono mezzo esploso Con un razzo Però Sino a qua è tutto a posto Questi sono i tipi Che sono andati all'Osi Per scendere più velocemente E sono arrivati comunque E sono arrivati Dopo Però comunque Potendo luttare Anzi Aspetta 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 Ci tiriamo un campfire Non tirarti il medikit Ok Perché così teniamo due medikit Allora aspetta Meglio trovare la danna Sì ci sono le bende Ce le avevo qui io Ok Dietro Le ho mollate per il medikit Oh sento una chest Sì Lo apri la prima Nah Però un assalto blu Mica male Eh Le bende Così lo facciamo tutto subito Eh Dove sono Non erano qua sopra Te le ho lasciate su Non è che le hai già lootate Eh non vedrei Eccolo Io ho visto che ci sono Mi bevo anche uno slurpino Appena arrivo a 100 Te l'ho trovato Che l'ho trovato Uccidendo quel tipo C'è una chest Nel palazzo davanti a noi Allora Qua dentro Eh vabbè Ovviamente Sono caduto sotto Ah eccola qua Prendi tu Siamo a due Eh vabbè Direi che anche questo ci sta Scar leggendario Scar viola Eh vabbè Mica male Vuoi le m6 blue Tanto lo stai troppo Sì sì Meglio di un bump Bianco Tutto è meglio di un bump a bianco Sì Decisamente Nonostante l'abbiamo aumentato di precisione Nell'ultima patch L'hanno aumentato È sul L'M16 Sì è sul Dove avevo aperto la chest Quasi preferisco la pistola silenziata Al bump a bianco Anzi se vedi Prima avevo la pistola silenziata in mano Al posto del bump a bianco Sì Infatti lo usano qua Eh Tengo il lanciarazzi O tengo il C4 Vuoi tu il lanciarazzi? Eh Sì Ok Qua sopra Prendiamo il rift qua sopra Vediamo se ce ne sono altri No Dobbiamo prendere questo Può andare? Eh Paradise Controlliamo se c'è gente Se stanno fightando Ci mettiamo come terzo incomodo Uh Guarda il rift qua Eh Tantissimi Beh ovvio Atterro con te Voglio vedere bene Devo aprirle io Alle prossime Mi sa Quasi quasi Guarda quanti scori grandi abbiamo trovato Tantissimi Non sembra di vedere nessuna Paradise Non hanno luttato Ce lo luttiamo noi Tanto Ci vuole un po' Per la prossima safe Granate Granate Non vanno bene le granate Le granate qua Se non la troviamo qua Sì appunto Se non la troviamo in Paradise Ragazzi E' veramente Sfortuna Di me tiro ufficiale Ma Sfortuna brutta Non di quelle sfortune Sei stato sfortunato? No Qua ti hanno lanciato qualcosa Qualche mazzino Con il Tommy Gun C'è rampino Eh vabbè Non c'è razza Sento una chest Come se ce l'avessi sotto Vediamo se è sotto Ma lasciano L'MG Useless Esatto Ho il P90 Che è comunque forte Quanto il Tommy Gun Vabbè IV Shotgun Viola Ah Devo aprirle io Le chest Diciamo che Una su due A parte lo scudo grande Imbarazzante Che forse è meglio Prendere al posto di Medikit Perché ne possiamo Tenere tra testa Ne ho trovato un altro ancora A sto punto inizio a tenerle Sì Tienili Tienili C'è È un qualcosa Di imbarazzante Veramente Non ci abbiamo pensato Ne abbiamo trovato A meno 4 o 5 No no vabbè no Lanciare a missili guidato Di nuovo Viola lo stesso Uguale Allora Rift di Paradise Dovrebbero esserci Quindi Vediamo un po' Uh assalto blu Se lo vuoi No è lo scar L'hai mollato a me L'assalto blu Yes mate E quasi quasi Mi tengo anche le granate Ne sto fisso trovando Al posto di C4 Anche quello è vero Sì Visto le ki che stavo facendo Ultimamente Tirando granate a casa Uccidendo di gente Vabbè Controllo anche le vending Visto che ci siamo Lancia granate C4 Eh Dobbiamo correre No Ne ho visto solo una Lancia granate Bene Mollo le granate No ma è il lanciarazzi Sì Sì Tieni Teniamo il lancia granate Si può spammare di più e più figo Ma come? Sì Molto meglio le lanciarazzi Secondo me Di che colore ce l'hai? Blu Purtroppo solo blu Te lo sto portando E poi tu cosa ti prendi? Eh Boh Mi luto questa cesta Tiene anche 4 razzi Qualcosa troverò No non c'è la cesta Andiamo Lì l'hai presa Per il momento mi tengo Il lanciarazzi con un solo razzo Giusto per occupare lo spazio Per usarlo anche Esatto Sennò abbiamo sprecato un missile Via Veloci Ce ne andiamo verso Questa parte di Ritel Oh Hanno fightato sotto di noi O forse hanno solo luttato Sicuramente a Ritel hanno fightato C'è anche un lanciar Dove? Ma spero che qua puoi scendere fino a terra Eh ma poi adesso devi correre per la zona Sta arrivando Oh cavolo Per questo non ero sceso io Non avevo visto di essere ancora così fuori No ma non mi tocca Quello era un Barret E so da dove proveniva Non era per noi di sicuro Per io tento Un lanciar missile Oddio Se faccio carambola con questo È GG Uh li vedo Oh mio dio Ma che cavolo Non ci credo L'ho preso L'ho preso L'ho preso A casissimo Non mi ha segnato neanche i metri Abbiamo gente a nord-est Centottanta Ah li ha segnati Centottanta metri con il lanciarazzi Oh mio dio Oh mio dio Stupendo Completamente sparato a caso No lo prendo L'ultima volta che mi è capitata una cosa del genere Ho fatto una tripla sparando la caso Però Non ho mai Più avuto la clip Purtroppo Avevano cancellato il replay Non l'avevo fatto in tempo a registrarla La volevo mettere su Instagram E comunque come clip del canale Perché era bellissima Però Purtroppo niente Sino a quando non fixano questa cosa Di Almeno non lo faranno Non lo faranno mai Dovrebbero Sicuramente li crea qualche problema grosso Boh basta farlo al lato client Chi sei? Sì sì Davanti a me Davanti a me Davanti a me Ah ma tu stai andando direttamente su quelli? Tu dove andare? Eh questi a sinistra Li prendiamo da dietro Anche se forse sarebbe stato meglio andare a destra C'erano con te? No C'erano tra di loro Occhio che poi ci ritroviamo gli altri Ne abbiamo uno sulla sinistra E il cavaliere nero lì Che è vietato praticamente da tutto tutto Quanta gente c'è che fa combattere una con Si capisce? Molta In basso a sinistra abbiamo un t-post Sopra al tetto della casa Mi ha preso in volo Mi ha preso L'altro è basso di vita Si sta curando Ti ha chiuso Dov'è? È stupido Ce la fai ce la fai Fixer ce la fai Non lo sto colpendo L'altro amico Arriva Arriva Sta buildando Sta buildando Scala Doppia scala Sta salendo Vai L'hanno ucciso Grandissimi gli avversari Davvero? Vieni a salvarmi prima però Mi ha salvarmi ti prego No 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 Volaccio 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 Oh mio dio Quello è un cechino Esci da qua Ce la possiamo fare Ce la possiamo E' sopra il muro Sopra la scala del tipo Vorrebbe rifiutare tutto giusto? Eh si Probabilmente si Ok, ok, ok Oddio Ho preso la nuova arma Ti spavento un po' Eh, mi ha distrutto C'è la zona, è un cecchino qua Hai un rampino? Vuoi un rampino? Cioè, no Mi sono incastrato Se ne stanno scappando anche loro, eh Mi sa, no, non è vero No, sono qua a pianto, altro che scappando L'ho laserato, l'ho laserato E su di me, su di me, mi fai una killa Sa che ho la nuova arma E quello l'ho laserato tantissimo Fixer, sei un genio Un hit No, no, no Non ci credo 23 di vita Neanche un colpo lo sta veitando, hai visto? Li sparavo da un metro e non gli erano alcuni colpi Iscar Sì, l'ho visto Vabbè Non ci credo Non l'ho lasciato E vai, lì devi per forza fare così Bene ragazzi, per questo video è tutto Se il video vi è piaciuto lasciate un like, commentate e condividete Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale Iscrivetevi anche i social che ci sono in descrizione Ci vediamo in un prossimo video, grazie, arrivederci alla prossima